Nuovo accordo sulla TAV nel vertice intergovernativo tra Italia e Francia in corso a Parigi con Renzi e Hollande. Un passo importante in vista dei nuovi finanziamenti europei. E ora in Francia, come annunciato nel titolo all'inizio del telegiornale, si parla anche della Torino-Lione nell'incontro bilaterale Italia-Francia in corso in questi momenti. A Parigi sarà firmato un protocollo aggiuntivo dell'accordo siglato a Roma nel 2012, un passo importante in vista della richiesta di nuovi finanziamenti all'Europa. Ma sentiamo allora da Parigi il nostro corrispondente Antonio Di Bella. Hollande e Renzi. Vediamo le immagini di questo vertice Italia-Francia appena cominciato qui all'Eliseo. Renzi è arrivato non da solo ma con una folta schiera di ministri. I temi. La Grecia, appunto, lo sviluppo economico più che il rigore nei conti pubblici sono i cardini della linea di tendenza sviluppate sia da Italia che Francia. Poi c'è un altro punto in particolare fra Italia e Francia. L'attavo, cioè la linea ferroviaria Parigi-Lione-Torino. In particolare si premia perché si sblocchino i fondi europei che dovrebbero finanziare per il 40% quest'opera. Poi, altro tema importante, la lotta al terrorismo, con un'attenzione particolare alla Libia. Sulla Libia nessuna opzione militare, concordano Hollande e Renzi, ma azione diplomatica. In particolare con un'attenzione all'ONU e al viaggio dell'inviato dell'ONU, Bernardino Leon, che giovedì sarà in Libia per incontrare le frazioni. Dicevamo molti i ministri presenti, dalla riforme agli interni. Conferenza stampa alle 15. Dall'Eliseo è tutto.